buon inizio di settimana un'altra settimana insieme importante sempre salute ti vedo convinto no 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 per carità capisco che un giorno difficile non è venerdì come dice l'igabue se no cosa fa come fa no no non lo diciamo dai dopo sennò mi dici le dico sempre però lui le può dire io no senti siamo qui al teatro tenda tanto c'è un bel marciapiede qui portano via tutto a casa una vada rifare un attimo e quindi sicuramente se l'hai portato via il questo teatro tenda che da lontano sembra un mega tempo della circo una riva in città dice o c'è il circo togni invece no è il teatro tenda la famosa per equazione come si dice con l'ex politiama come si chiama quell'operazione che hanno fatto a parità di insomma la rete è partita i soliti bravi che è partita forse per entrare dentro a sbafo allora abbiamo incontrato prima un signore mentre stavamo facendo i nostri le nostre ricognizioni qui al teatro tenda che ci ha detto che l'aria è un po incustodita senti un po mi hanno lasciato tutto aperto e quindi io non lo so ma penso che valga qualche decina di migliaia di euro non è non è bello per tenerlo aperto in questo lato con i vigilanti che fanno servizio qui alla coppia ma detto che compito del comune quindi effettivamente qua e qua è veramente un po in stato di abbandono perché è nell'angolo del parcheggio di per coppia la sera a certo punto chiude e qua giù veramente non ci passa nessuno perché poi è anche un posto talmente solitario a meno che anche pericoloso capito quindi sì sì è pericoloso e quindi la notte qua è completamente diciamo abbandonato magari c'è un cino un po particolare forse quelli controlleranno a cosa alludi scusa particolare particolare la notte nel parcheggio qui non si chiama più per coppa anche se la gente continua a chiamarlo così ma è copfi ma anche no se comunque una certa occhiata gliela daranno loro essendoci operatori della notte che vengono qui e comunque noi siamo qui anche a parte appunto abbiamo fatto sentire insomma chi ci passa anche quotidianamente qui tutto aperto ai quadri tutti aperti hai capito molto in sicurezza è tutto aperto quindi non può venire benissimo qui c'è anche l'altra attenzione perché poi questo sicuramente il contratto è attaccato quindi tutto aperto tutto aperto e poi questo teatro questo teatro che viene utilizzato ogni tanto quando facciamo dei concerti per il calci oppure quello dei ferrovieri per la musica anni 60 qualcos'altro ci viene fatto durante l'anno poca roba insomma rispetto a quello che doveva essere diventare il fulcro degli eventi musicali un investimento da 800 mila euro più più dopo tutti gli impianti che sono stati fatti non si giustifica per farci quattro cinque manifestazioni all'anno tra l'altro ti ricordi quando l'ex amministrazione fanfani no lo non so se tu è già andato via non mi ricordo è già andato via per cosa quando si progettò questo teatro tenda ero già andato via e insomma si faceva i paralleli con l'ex sasciol o biol come si chiama adesso di firenze ma è tutta un'altra storia perché quello è all'interno di un grande circuito di eventi nazionali e non sono non capisco perché qualcuno non se lo prende o ci sono problematiche di natura tecnica permessi agibilità e così via altrimenti non capisco perché qualche impresario non lo chiede